La crociata del sindaco di Silvi Gaetano Vallescura contro la prostituzione è continuo in perterrite e si arricchisce anzi di nuovi strumenti che il primo cittadino vuole usare per sradicare il fenomeno dal suo comune. Dopo le multe per prostitute clienti e i relativi cartelli nella cittadina, ora l'attenzione dell'amministrazione municipale si sta focalizzando sulle cosiddette case del sesso che sono presenti a centinaia a Silvi. In sostanza l'arma usata dal sindaco è questa. Le case usate per l'esercizio della prostituzione sono comparabili ai negozi, insomma vi si esercita un'attività commerciale. In tal caso il proprietario dell'immobile commette un vero e proprio abuso edilizio perché varia in modo illegale la destinazione d'uso dell'appartamento e se accade ciò il comune ritira l'agibilità sull'immobile. Ci sono state già circa 40 ingiunzioni di ripristino della destinazione d'uso dell'immobile ai soli fini residenziali. Chi non è in regola ha tempo 30 giorni per riavere l'agibilità e se non lo farà rischia di essere denunciato per abuso edilizio. Gli inquilini, ovvero le prostitute in questo caso, possono essere sfrattate. È proprio il caso di dire che Silvi è all'avanguardia nella lotta contro la prostituzione. Basti pensare che questo particolare procedimento ideato da Vallescura è il primo nel suo genere in tutta Italia.